in uno dei miei acquari questi nel video ho appoggiato due pesci rossi che provengono da un acquario che è appena stato dismesso e avrebbero senz'altro fatto una brutta fine ma sappiate che il comune pesce rosso il carassio sauratus è un animale che ha bisogno di grandi acquari e meglio ancora se sta nel laghetto in giardino poiché è un animale che in condizioni adeguate può raggiungere e superare nettamente i 20 centimetri di lunghezza e vivere per 15 20 anni anche 30 capito oggi perché le bocce di vetro sono vietate come sono vietati gli acquari troppo piccoli gli acquari che hanno i vetri condeggianti inoltre ogni acquario deve essere garantito il ricambio alla durazione e l'ossigenazione dell'acqua la temperatura e le caratteristiche chimico fisiche devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie che andremo ad ospitare